Abbiamo avviato questo percorso, un pacchetto chiamato competitività Sicilia, diverse misure per un totale di 105 milioni di euro inizialmente che possono andare a mettere liquidità intanto nel sistema e aiutare l'azienda nel campo della ricerca, nel campo dell'innovazione, nel campo dello sviluppo tecnologico. Abbiamo cercato di attivare queste misure attraverso anche l'IRFIS per dare una mano alle aziende, la misura si chiama ripresa Sicilia, quindi è un modo per cercare di far riprendere le aziende dopo il periodo del Covid. Queste misure di cui ho parlato poc'anzi sono delle misure importanti per le aziende, il bonus energia è un sostegno ulteriore per le aziende. Stiamo cercando di mettere liquidità nel sistema utilizzando i POC, gli FSC, tutte queste misure, questi fondi che vogliamo spendere per dare una mano alle aziende e non non spenderli per farli ritornare in Europa.